allora giovani amici di facebook oggi voglio parlarvi di una roba particolare praticamente farò l'unboxing dello zaino che utilizzo per andare nelle diverse fiere a cui partecipo con lega nerd come inviato fotografo o quello che è fiere italiane che estere e ho la necessità di portarmi dietro sia la macchina fotografica sia un po di lenti per la macchina fotografica ma anche altri oggetti diciamo sempre dentro alla stessa borsa ho testato e provato diverse borse nel corso degli anni e alla fine l'unica che con cui sono riuscito a trovarmi sempre bene e che ha diciamo esaudito tutte le mie necessità è questa qua del lowe pro che si chiama foto hatchback 16 e che vi mostro tra pochi secondi alla fine sono finito su uno vino come questo qua prima ha visto che sono un fighetto ho provato anche delle borse monospalla insomma diverse robe per esempio ho provato questa che è un monospalla è molto comoda perché è piccolissima ci sta dentro la macchina fotografica le lenti tutto quanto il resto ce la puoi avere davanti però il problema è che piccolissima per cui non ci sta nient'altro se per esempio ai caldo vuoi toglierti la felpa a metterla via anche solamente una bottiglia d'acqua questo tipo di borse è veramente un problema ho provato anche il classico borsone diciamo con la spallina eccetera che chiaramente ha tantissimo spazio per tante lenti e altro dentro no il problema è che se hai molto più spazio ma è veramente super scomoda perché avendo una sola spallina e solitamente avendo un sacco di peso dentro dopo un po a fine giornata non ne puoi più in più se ci vuoi mettere dentro una felpa ripeto o qualcosa di un po più capiente diventa un problema quindi anche questa è stata scartata alla fine come vi dicevo sono finito su uno vino fotografico come questo del lowe pro ne ho provati anche altri più grandi il problema chiaramente che sono troppo grandi per cui alla fine sono veramente super ingombranti per niente almeno per il mio uso per intenderci solitamente parto la mattina dall'albergo o da quello che mi devo portare dietro come dicevo una macchina fotografica e un paio di lenti e avere anche lo spazio per riporre eventualmente la felpa o giubbotto se durante la giornata si fa caldo uno vino di queste dimensioni medio piccole è un 16 litri ne esiste anche una versione 22 litri è assolutamente la soluzione migliore c'è anche in altri colori che chiaramente se non vi piace l'arancio c'è il grigio c'è il nero c'è il blu la comodità di questa lowe pro è che è super modulare allora ai lati ha queste due tasche molto comode in una vedete ora c'è questo treppiede che mi porto sempre dietro della manfrotto piccolino è molto famoso online forse l'avete già visto costa o 20 o 30 euro costa veramente poco è super resistente funziona da dio e ha una testa a sfera che è orientabile se vi serve un treppiedi piccolo da utilizzare al volo con la gopro o con la camera questo è veramente l'ideale e sta perfettamente qui come vedete dalla parte opposta c'è una stessa c'è bottiglietta da mezzo litro d'acqua comodissimo averla ovviamente con sé durante la giornata davanti c'è questa zip che nasconde al suo interno due diverse tasche una frontale la vedete qui che può ospitare tranquillamente un tablet in questo momento ospitava un nexus 9 ci sta tranquillamente anche un ipad e addirittura io gli faccio stare anche in quest'altra diciamo tasca intermedia si sta anche il mio macbook air 11 pollici senza custodia proprio direttamente infilato dentro per cui così riesco a portarmi dietro in un unico vino di queste piccole dimensioni il tablet il computer tutti gli accessori dentro che vedremo la macchina fotografica e tre lenti sul retro dello vino c'è una imbottitura nella parte alta e poi tutto il reparto fotografico ripeto è il retro dello vino e questo è una delle più grandi comodità che ha questo vino per due motivi il primo sarà praticamente impossibile rubarvi lenti o macchine fotografiche senza che ve ne accorgiate magari siete in treno magari siete in autobus magari siete in metro avete lo vino sulle spalle e un ladro può venire da dietro magari aprire la zip no e rubare qualcosa in questo caso è impossibile perché qui c'è la vostra schiena e questa parte rimane dentro l'altro motivo ancora più importante per cui è comodo avere la tasca fotografica qui è perché il classico uso di questo vino e toglierselo appoggiarlo su una superficie piana e poi andare ad aprire appunto questo scompartimento che adesso vi faccio vedere perché è eccezionale si apre in questa maniera qua spero che non esca tutto ma dovrebbe essere quasi vuoto visto che la macchina fotografica che di solito metto qui dentro lo sto usando adesso per riprendere questo è tutto configurabile chiaramente io ho lasciato un'area centrale in cui inserisco un po di accessori un'area sotto in cui ho questo porta schede sd che vi dimostro al volo e vi consiglio un porta schede sd super impermeabile veramente da 007 che ospita fino a otto schede sd anche questo ve lo linko sotto e a destra a sinistra potete mettere io qui metto la mia macchina fotografica e a destra due o anche tre lenti io uso il sistema micro 4 terzi per cui chiaramente ho la macchina fotografica molto piccola e anche le lenti che sono molto piccole per intenderci questa è un 20 mm veramente piccolissima questa qua è un 50 mm super piccola per cui questo chiaramente mi agevola molto l'altra mega figata di questo vigno è che tutta questa parte qua come vedete viene via è attaccata con il verzo sul fondo ecco qua e a questo punto questa si può richiudere guardate che fighiata così e addirittura le maniglie per cui tutto questo diciamo scompartimento fotografico che prima era dentro lo vigno può essere riposto da un'altra parte e magari appunto messo via perché si vuole utilizzare lo vigno nella sua interezza perché dico questo chiaramente come avrete capito diciamo ci sono due scompartimenti uno inferiore e uno superiore se volete però utilizzare lo vigno tutto quanto potete togliere come appena fatto la parte inferiore e aprire questa parete divisoria si può aprire in modo tale che diventi tutto uno vigno unico prima di passare oltre vi mostro anche qui c'è una specie di tasca nascosta sotto lo vigno che nasconde un cappuccio impermeabile veramente super comodo in caso di pioggia praticamente potrete rivestire tutto quanto lo vigno con questo cappuccio diventerà super impermeabile ed iterà che tutto il suo contenuto si inzuppi d'acqua oltre ai due spallacci principali ha chiaramente qui frontale la comoda cinghia che vi gira attorno la vita e anche qui superiormente stesso sistema che serve un po a alleggerire il peso sullo vigno tra l'altro guardate che figata questo sistema praticamente è una slitta su cui si può muovere questo e addirittura si possono togliere semplicemente arrivi a fondo diciamo corso in fondo e vengono via bellissimo sistema e super intelligente per diciamo attaccare e staccare questo tipo di stringhe allora passiamo ora finalmente alla parte superiore dello vigno chiaramente è accessibile con questi due zip vi mostro cosa riesce a contenere tantissima roba oltre a tutti gli accessori qui solitamente ci faccio stare anche la felpa o il giubbotto ovviamente super ripiegato però qui ci sta ed è stata un po la svolta per me perché appunto come dicevo le altre borse fotografiche si tenevano il materiale fotografico ma nient'altro invece è fondamentale avere un po di spazio in più per tenere magari il gadget che hai preso oppure appunto la felpa eccetera nel mio caso vado a fare un po l'unboxing c'è tantissima roba chiaramente qui sulla destra c'è tutto il reparto batterie con il ormai famoso e mie memo ce ne sono ben tre quindi ho svariati milliampere a disposizione ecco perché vi dicevo che le mie memo è molto comodo perché essendo tutti della stessa dimensione e con una forma così diciamo a parallelepipedo risulta perfetto in borsa tra l'altro io ne ho svariati per cui posso scambiarli molto semplicemente e oltretutto controllare il livello di batterie semplicemente guardando i led qui sopra nella parte diciamo sinistra c'è un'altra tasca aperta che può contenere un sacco di roba nel mio caso ciò ha fatto stare un chrome cast sempre comodo averlo dietro un mouse bluetooth che vi ho mostrato anche questo quello di microsoft è talmente sottile e leggero che sta tranquillamente dentro allo zaino un po di biglietti da visita chiaramente di lega nerd e poi qui abbiamo la mitica swiss card di victorinox che vi ho mostrato anche quella è sempre comodo averla dentro zaino c'è una xia yomi cam tanto per non farci mancare niente anche questa è comodissima tra l'altro la xia mi chiama un attacco standard per treppiedi ed è perfetta insieme al treppiedi che vi ho mostrato poco fa cioè praticamente si collegano insieme super semplicemente e diventa praticamente il treppiede diventa sia l'impugnatura per la cam che magari invece appunto il supporto in cui appoggiarla e riprendere in questa maniera qua davvero comodissimo questo treppiede perché è anche un'ottima impugnatura nella diciamo tasca principale ci sta tantissima altra roba chiaramente come vi dicevo è dove di solito il filo la felpa ma ci ho fatto stare anche altre cose super gadget chiaramente o sempre con me un router portatile a batterie mobile comodissimo questo per condividere la propria connessione mobile magari a traffico infinito chiaramente e poi ho questo joypad bluetooth non ce l'ho sempre dietro in questo caso era e era qui ma solitamente in fiera non me lo porto però magari durante un viaggio eccetera è comodissimo avere un joypad bluetooth con cui giocare soprattutto con il tablet chiaramente cos'altro allora indispensabile almeno per me anche se un po da bimbo minchia diciamo il classico monopod no per cui con cui farsi con cui riprendersi in selfie questo è molto comodo perché a questa morsa che si adatta a qualunque cellulare è un telecomandino bluetooth ed è veramente super piccolo si allunga chiaramente super piccolo super leggero gli incastro qui il telecomando occupa poco spazio e quando mi serve funziona egregiamente e poi ho questo questo qui ve l'ho credo mostrato in uno dei miei primissimi video è una combinazione di diverse cose sia un power bank tanto per non farci mancare ancora altre altre altra batteria aggiuntiva e più è diciamo un router portatile per cui ha un ingresso ethernet che è comodissimo in in quegli alberghi che non danno il wifi ma danno solamente la connessione internet a quel punto collegato il cavo ethernet qui lui crea una sua rete wifi che è accessibile via smartphone o tablet e consente sia di condividere file che di appunto condividere in l'internet fondamentalmente ha chiaramente una presa per ricaricare accessori perché è anche un power bank e poi altra minifigata a un lettore di micro sd se inserite una micro sd con dei file in questo mini router portatili poi lui condividerà quei file nella rete wifi che crea e anche questo è veramente super comodo se ne sono svariati online andavano un po di moda lo scorso anno veramente ogni marca ne ha uno la particolarità di questo qui in particolare appunto di raw power e del motivo per cui l'ho comprato è che ha una porta ethernet che solitamente non non ce l'hanno sempre dietro al mio zaino di Doraemon andiamo a vedere che altro c'è c'è una luce usb anche questa sembrerà una minchiata in parte lo è però visto che pesa poco ed è super piccola è molto comoda perché si combina perfettamente con i power bank cioè voi la collegate al power bank e lei automaticamente no vi illumina lo zaino o qualunque roba ultime cose dentro al mio zaino beh chiaramente un accendino sempre comodo questo viene da alcatraz poi ho un lucchetto tsa con combinazione questo può essere davvero comodo in viaggio perché vi consente di chiudere i vostri bagagli e di lasciare però che l'ente americano di controllo degli aeroporti riesca ad entrare semplicemente usando la loro chiave standard in questa serratura o poi un mini caricatore usb veramente microscopico c'è un po buttato lì però può salvarvi la vita avere un caricatore usb sempre dietro ancora che altro c'è vediamo c'è un cavo corto lightning che sempre comodo avere perché perché i cavi lunghi magari sono troppo ingombranti invece se dovete semplicemente ricaricare il vostro iphone in questo caso ho anche un cavo corto micro sb per i device android è molto più comodo avere un cavo corto a cui collegare un battery pack chiaramente un battery bank in più questo è magnetico e si può diciamo mettere via semplicemente in questa maniera poi ecco o un adattatore ethernet per il macbook air e per concludere ho anche un paio di cuffie le mie adorate cuffie verdi della jbl io sono uno che odia le cuffie in here queste però sono le uniche cuffie che riesco a portare davvero e comodamente non ricordo esattamente il nome del modello ve lo scriverò in descrizione non costano tantissimo suono da paura sono magnetiche come come vedete per cui diciamo non si incasinano dentro allo vai non ho anche il cavo piatto oltretutto questo è un catere frangente ci sono in vari colori io le ho comprate verdi perché mi piacevano verdi sono super consigliate stracomode suonano da paura veramente jbl tra l'altro hanno vinto un premio di red dot eccetera veramente fatte incredibilmente ve le consiglio sotto nella descrizione visto che ci siamo vi do anche un piccolo consiglio diciamo di viaggio per quanto riguarda gli adattatori elettrici chiaramente se andate all'estero dovrete adattare tutto questo un baradà di tecnologia alle spine locali solitamente online vedo sempre che vi consigliano gli adattatori universali come questo allora se lo volete a tutti i costi questo qui probabilmente il migliore sul mercato perché oltre a fare da adattatore per le diverse prese vengono fuori di cui vedete molto figo tac e poi si rimette dentro ha anche due prese usb per cui anche un caricatore usb il problema però di questi robbi giganteschi e che spesso non entrano bene dentro alle prese a muro e quindi non sono fondamentalmente utilizzabili due costano tantissimo costano troppo perché sono ovviamente fin troppo complicati per l'uso che ne dovete fare a meno che ovviamente non dovete fare giro del mondo per cui vi servono tutti i quattro gli adattatori durante un unico viaggio cosa praticamente impossibile al posto di questi giganti inutili io vi consiglio di comprarvi dei piccolissimi adattatori che si trovano su amazon ovunque dedicati al paese in cui andate in questo caso c'è un adattatore per spina americana è venduto in sacchetto da tre ve ne danno tre per cui di qua infilate il vostro caricatore di qua infilate la presa nel muro rimane piccolo si infila in qualunque presa vedete e 3 penso di aver ripagati 5 euro quindi non vi comprate un mostro che è valido per tutti i paesi del mondo ma compratevi semplicemente l'adattatore che vi serve per il paese in cui dovete andare allora per concludere come vedete dentro lo zano c'è stata veramente tantissima roba e poi vi ripeto manca la macchina fotografica che sto usando ora per riprendere il mio caso veramente un caso limite però ci sono tutte le cose che mi porto di solito in fiera o nelle varie manifestazioni a cui partecipo in tutte queste fiere mi serve portarmi dietro un po di attrezzatura un po di gadget e ripeto avere lo spazio anche per mettere via magari la felpa o il giubbotto leggero quando si fa caldo per tutti questi utilizzi o semplicemente per la vostra uscita del weekend lo zaino lower pro footage back 16 è super consigliato come abbiamo visto ha diverse tasche modulare è veramente super comodissimo ne esiste ripeto anche una versione da 22 litri quindi molto più grande questo è un 16 litri secondo me questa è la via di mezzo migliore inizialmente avevo ordinato la versione 22 litri ma l'ho restituita perché era troppo grande per le mie esigenze c'è anche in altri colori come vi dicevo a inizio video grigio blu e anche nero oltre che il fantastico arancio che vedete in questo video se vi è piaciuto il mio unboxing tra virgolette e se vi piacciono i miei incauto unboxing fate like fate share ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao